Cari amici benvenuti in questo nuovo speed art So che in questo periodo non avete molto tempo a disposizione per guardare delle super live che durano 47 milioni di anni Quindi cercherò di fare più video e questo è uno di quei video Lo sapete le dirette mi piacciono molto perché è bello interagire con voi in tempo reale Ed è per questo che ho intenzione di usare più spesso Twitch Per chi non lo sapesse si ho un account su Twitch, lo uso da più di un anno E l'ho usato prevalentemente per giocare a Fortnite Adesso però è un periodo in cui non sto giocando molto a Fortnite E lo sto convertendo piano piano in un canale di arte Non è detto che non possano esserci dei toni a Fortnite o qualche altro videogioco Però magari a volte mi metto a disegnare e lo faccio in live Se non siete ancora iscritti al mio canale di Twitch e siete interessati Naturalmente lo trovate linkato in descrizione Attenzione perché a volte su Twitch mi scappa qualche parolina Io vi ho avvisato Il fumetto che vedete l'ho disegnato durante una diretta serale su Twitch appunto Ed è ispirato a una conversazione realmente avvenuta Come tutte le battute orribili che mi vedete disegnare Si Rastang ha fatto una battuta abbastanza oscena a Peppe E mi sono sentita in dovere di riportarla anche su video Quindi seguitemi su Instagram se volete vedere i miei fumetti I miei disegni, quello che vi pare Seguitemi su Twitch se volete vedermi sclerare in diretta Mente e disegno Per tutti quelli che se lo chiedono il disegno è fatto con Paint Usai Anche se a volte per ottenere certi effetti di colore uso Clip Studio Paint Detto questo vi lascio alla speed art Spero che vi divertiate a vedermi disegnare velocissimamente E appena possibile se vorrete farò anche una speed art in live Grazie a tutti e alla prossima Con Kidia e Turnalove Ciao E mi raccomando attenzione alle battute brutte Perché poi vengono fuori i fumetti Ciao 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 Ciao